ciao ma non ci sente? può essere che noi dobbiamo uscire dal party no non c'entra zolletta vatti pronto no c'ho il controllo di scarico ma chi zolletta mi ha dato aspettate un secondo controllo di riserva che ha detto secondo controllo di riserva questo il mio secondo controllo quanti controllo erai? tre diecimila tre soltanto però che c'ho anche la ps3 però vabbè perché ci sono mio fratello prima ne avevo quattro ma un quarto me l'ha distrutto mio fratello certe volte non proprio distrutto però seguitemi seguitemi è iniziala grande lo te l'ho detto io sono qua cioè io ce l'ho attaccata alla linea ci ho cancellato quattro giochi vattimi cinque no ce l'ho dato un coppia in faccia scusami ok ora non è lega perché sono state promosse venite venite questa qua BHE ma andiamo nella mia mamma è entrata è piccola però no no andiamo nella BHE raga ma chi conosce zolletta ammirato ma che è sto zolletta ammirato la di una persona chiunque sia vabbè sono uno youtuber vero? no no non ti preoccupare di TikTok è monestica fantastica allora io su TikTok ne ho eeeh ne ho 1600 o 3 oh mio fratello oh mio fratello oh mio fratello oh mio fratello mi piace di mettere ste cose oh mio fratello me lo fanno tutto sono lì sono lì sono la mia arma preferita ma dov'è eccola eccola io sono la questa no no pesi avventato come incazzare da cammini anora gabriele il retro sbagliato sei tu la mia pena tanti tuffa bomba avevi tutto tutto vero male che mi sono buttato ma si vede che scappo con la mia la borghini bro mese non mi eccitere più e non rompere le palle gabbia aspettami cambio la schiena allora mi metto la skin bella bella venga ok mi da ai questo tipo questa vero non è quanti iscritti ai 3 mangiavano mente caso mi sono iscritto l'ho lasciato il light ma non è che non l'ho lasciato è vero cacchio a c'è un gigante sparate 118 aiuto mi sta pestando con le scarpe della nike mondo in che mondo vivi it's my sosia ma ma che è bugato ogni volta che voglio ballare ma è bugato ammazza ma non non è che lo faccio fa o 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 I o o what vai a riposare e no perché subito prima che si succede il scaldamento ặc garden guardaci in diretta ciò 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 stacca l'alimentazione sbagliato scusa ma non parla ma chi è guarda si fa così aspetta aspetta poi metti uno metti un altro e fai così cosa avesse perché non parla perché ma mio dove fatti potassi però non lo trovo secondo me zolle c'è femmina ha chiamato subito da bene guarda perché mi sparate la faccio cadere a di come bido così così sta parlando a me non ammazza soffortunato continuo a sparare mi piace di più aspetta ah forse mi devo mettere la tua schiena su questo mi spara ma chi è di ripeto che sta facendo rega parla aia cazzo rega ha parlato zolletta mirato mi pare di sì forse nella chat di gioco riparla di nuovo parla della voce quanti anni hai forse inglese ok 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 pensavo che la mia età arrivo guarda dove sparano ma che cazzo oh è rotto ma sto fanno il maschio fanno dove cazzo è morto aia rega ha messo il messo 4 sono io non fa le killa gratis oh ma non mi roberto aspetta che non mi cambio la skin va non voglio essere venire non si può cambiare manco una skin hai rotto rega ce n'è lo ser fruit rega una cosa una cosa una cosa ah questa qui ma io ce l'ho pure mi pare ma c'è il suo tanto di balletto è la nostra tua mia amica ma io ad est che cazzo no 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 sono malato io non che stai sottorrendo ma perché lo uccide volevo stare con lui ti lancio un pecella cara ma mi stai seguendo in diretta zolletta mirato ma tu sei amico no sei amico di chi tu chi sei tu sei cattivo meriti di morire però ti risparmi perché sono buono oggi è s 4 1 avventato eliminazioni 12 adesso è un 1 so fare la voce di spongebob un pochettino 6 6 6 io non posso imitare qualcosa tipo no non stavo piangendo stavo facendo spongebob no ma no dice questa persona fallo di noi vuoi essere traumatizzato no no perché aspetta no no non voglio piangere dai vogliamo tutti non ci ammazziamo anzi cantiamo no io sto rifà no poverino comunque la ricarica di sta pistola è molto strana guarda gabby dove l'ho trovata è questa ok guarda puoi fare così è questo maiery christmas maiery christmas da solo fra non vinca adesso sono io guarda vado più veloce in aria cosa che è stato sotto voglio vedere vediamo ecco guarda con stato sotto hai visto come ho fatto due montagnette la sotto guarda non lo so se lo vedi guarda sotto guarda guarda lì però non ci può arrivare non riesco a fare pure io artista voglio vedere se riesco fuori ma poi c'è un vado voglio vedere se arrivo al limite tipo la mappa forse arrivo al limite mappa no però mi fai tornare indietro ti sicuro che è resettato riga si ammazza zolletta mirato guarda c'è l'alcobaleno oppure non dice niente il mio colore preferito è blu blu no se mi metto la skinne blu si è tutto blu voglio vedere non mi picconare oh guarda aspetta aspetta se metto la skinne blu oh maia calmati no mi calmo perchè sei arrabbiata scusa? mi stanno già girando perchè prima mia sorella mi ha fatto incazzare cosa ti ha fatto la povera Sonia? chiedilo a lei per te lo fa capire e come faccio a chiedere io la scusami? ma dov'è la pipi con? beh coneli ora si attacca anche mia sorella perchè ho sentito che ci sei online che mi aspetta io non so gli ordini dove cavolo sei? brutto e io faccio così può fare brutto baccarosco come di simpson io fare buccia ho provato ho provato ho provato ho provato ho provato la mia skinne blu ma non si capisce che col coronavirus no mi stavo sgruzzando no così io dico caso e non lo trovo dove? già quel suono della play è come è come se che se si banno aspetta sto prendendo le armi cretino lo faccio apposta non so che lo fai apposta ma se mi scappo tutto lo posso fare dipende se il live fra si sono ancora tu credo che non lo sappiamo sei in un video come? sei in un video come? siamo in diretta su youtube siamo in diretta su youtube siamo in diretta su youtube? siamo in diretta su youtube? cerca Gabriele cerca Gabriele elettro cerca tutto attaccato in minuscolo Gabriele elettro ok lo cerca subito e siamo su youtube esisti esisti ma non si può passare ma perchè tutte le cose si clattolano ogni minuto ho preso la skinny con youtube no sono in acqua e la son giocare aiuto no no ti curo ti, furi tieni tieni ti! son bag formulas cur Ho c'è una placca, investigating implacabile e battuta sicuro e dove sei chi è che sta guardando capo il cavolo mi ha ucciso mamma mia mi raga è la numerosa di youtube vabbè 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 ho sentito solo forse qualcuno è crashato solo su chi ha una persona su parti reale mi sono pagati in una sedia noi non mi fa più spostare e l'emogine no non si ha eliminato e lì dave k2 si è unito si è mia sorella basta mi auguro guarda vita infinita vita infinita sono immortale guarda vita infinita no e adesso la vita è finita mi ricordo che in una mappa quella questa c'erano pure le ecma mi sa che quando ci sono qualcuno vuole vuole qualcosa coca cola un po di acqua no l'acqua hai sbagliato ho l'unico di nutella di nuovo ve lo ricordate hai sbagliato per fortuna voglio che è la nutella e non c'è e lì c'è la nutella facciamo finta che c'è la nutella guarda questa acqua è la nutella mi preparo per il grande rutto libero come fantozzi mi sto avventato e sta rompendo lo avete sentito cosa? qualcuno ha fatto un rutto no io no rutto ha fatto un rutto l'ha fatta aspetta il rutto io no io prima di te l'ho fatto ma io è noob prima di prendere un te e ci oh spawno voi mi ammazzate voi non siete normali che bello venga che io allora che bello è l'arco esplosivo la mia arma preferita no provarci la mia rega ma c'è Sonia ma da quanto tempo che non giocavo con lei chi tu lo è si ma da guarda c'è ninja Sonia rega ma c'è Sonia rega ma c'è Sonia ma dov'è sta Sonia io non la vedo sono ninja è quella che è la skin di ninja la skin che desidero io se l'è preso un maschio cioè una femmina madonna ho anche no perché si è preso ninja io lo so anche ho anche mida femmina ma tu è qui anche io anche io c'ho mida femmina altre robe scusate mi potete regalare una figlia? no no quel poveraccio te la regalo io grazie così a caso a me me la dovesse regalare non sento bimbi io che ho detto che rega la skin alla gente io barriero andrea a me ieri Nathan mi ha regalato una skin chi? ma mamma che rinata schilata anche oh ehi hai rotto adesso ti rompo di più hai rotto quello qui non hai non senti perché ne hai rotto le scatole uuuuuh quello che non hai vabbè 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 c'è un mostro io non so io non so che io non so che io non so che io non so che scusatemi ho rotto per sbaglio ma non so che sonia dove sei? voglio ucciderti aiuto 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 mi stanno scarando no doveva la persona sonia? no devo prendere le armi rega ma quindi mi potete regalare una skin non posso salvare? no non ti regaliamo niente non possiamo fare niente non abbiamo vballo allora sonia guardami io ne ho 0 pure io ne ho 950 io ce ne ho 10 mila non è vero ma io che conosco dove prendo quella mia skin che ci stanno bene tutti perché c'è tutto l'arcobaleno arcobaleno ma è quindi sto entrando ma ancora non sono a me ragazzi siete su youtube hai la voce modificata dicendo tipo ma non fa io faccio ma quanto siamo rega quanti ho con non si capisce niente ma fai male con quella cosa ma fai male con quella cosa ma fai male con quella cosa mi fa mignotta a me che scherzi quello che non avete vorremmo anche farmi che ti faccio ritrovare la cosa vorremmo andre con l'angelo alle deriva e lui e lì nutella ai della nutella da darmi no a me io se sganci poi si vuoi perdoni te la do poi non ti fa al supermercato invece non è niente non te la do e te la rete la se sono generoso te la dopo la scaduta ma è buona scaduta no lo so col biscottino tutto dentro e il biscotto non è la canzone è la canzone è la canzone non mi posso che per una canzone guardati che c'ho dietro ma da piccone facciamoci un giro e vabbè posso cantarvi una cosa no ma vite bella cosa è la scoteca guarda se mi chiedo da facciamo un giro no ma pure io bello che mi ha sentito una scena proprio aiuto poi bevi no ma c'è la mille che sta sta vincendo la polizia riga e quindi cosa volete da me adesso uso io la minita quindi se mi mettono skin figo ora che per fare rarri 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 ma già subito uno si deve vestire e subito gli spavano prima non uccidete mi devo cambiare skin ok ok ho capito aspetta che cazzo skin mi devo cambiare skin anche io non uccidete no no se mi secondo me io sono io sono un po' un pupazzo non uccidete con pupa io non ho stesso skin di mia sorella no sonia non provare a uccidermi lo sai che muore allora ma si distrugge tutto è la fabbrica di cinese si e quello spara ma coglione dove hai un magazzino di skin oh che città oh ti faccio una casa non mi ha cambiato guardate poi mettiti la skin di ninja salve meno male io ci mettevo con la riscola ok ok google che cosa è spiderman 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 ok google cos'è la scotetta e la scotella e la scotella prega lasciatemi uccidere e la macchina mi sfudo tutta la macchina ci giuro che mi sfudo tutta la macchina ci giuro che mi sfudo tutta la macchina ci giuro che mi sfudo tutta la macchina ok google eeeh cantami una canzone mi sfudo tutta la macchina che mi sfudo tutta la macchina e la scotella ok google raccontami una bandelletta che tro che infame hai copiato la mia skin posso giocare io si gioca no sonia ti fai uccidere per favore siamo in live su youtube si qualcuno mi ammazza si si voglio provare a vedere come ha la skin di ninja ninja aiuto comunque mi chiamo io ho l'alpino d'oro sono rica figurati ora 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 mi possa ricambiarsi in grazie no e che mi chiede per vedere la skin che mi ha regalato ieri su youtube chi è io sono sono io gabriele tro gabriele tutto piccolo gabriele.it no no gabriele.ca porca mignotti no 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 ragazzi credere no no ma chi è che fa lo spammone con la mitraietta dai ah io non sono io mi stavo cambiando con la mitraietta ma se sei mitraietta se si impiacchiera sono su youtube mi piace mi fate spiacere di non spammare ora distruggo tutta la casa eh hai mente rotto mi sparo 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 ucciso te di fila no puoi fare fai unisciti ciao faccio un balletto bello facciamo ridata nella lobby no regà ok salve ah 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 io saluto e poi mi uccide no naruto mago e la u mago 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 mi 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 user fruit e la mia schifo è ferita certi nemici dicono con le mosche a gabriere gabriere troppi di troppo l'ultimo tipo di capo e ammazzate vediamo come avere mari e poi a cercare mai al mondo ma ricordo è carino adesso ti faccio ieri ti faccio ieri maria di stefani ma io sono guerriero ciao no sono l'uso e fructu e sarà la schifo non mi potete avanzare così signora il limone signora il limone il limone evitati di urlare io mi ha ammazzato uno sono io che sono la casiera statua statua sono guerriero sono guerriero vado a vedere che skin è sono guerriero che brutta vado a guarda qui dietro amico eh a me non mi gusta che noia che noia non mi gusta è proprio una skin da 800 rubatto è vero signora il limone signora signora il limone signora chi che hai fatto che cavolo sta a fare aspetta devo cercare una cosa raga un attimo che mi metto una skin della serie di cone fai tu si bravo io ce l'ho già io io difendo una skin mi metto una skin ciao e lì dove sai che ti devo far vedere anche un altro robo io sono l'uso e fructu che bellissimo non è vero oh yes non è fructu mi sta bucita di youtube mi fa schifo ogni volta io l'aspetto fbi 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 che ti permetti mi puzza mi puzza al diario no ha detto no ti aspetto no ti aspettavo ha detto no ho detto no non ho preso che sono l'alco che allora cercando questo e tipi che è bellissimo youtube si chiama il pp piaccia una cadena bellissimo troppo divertente qualcuno si guarda che quando questo dice se mi devo si dice nella realtà che bello mi rispondo pubblicità no sono gianni un mio amico l'ha incontrato è il nutella lo pillato scusa minicella bravo mi muovevo e perché stavo laggando maia è come se ti stessi mancando lo sai ma tu mi hai messo a giocare a meno maia tu non sei io sono un mostro non sono le hack non sono le hack l'ho messo io stavolta non sarò così scoppa oddio non ti scatto grandi statua guardia l'andre senza di memore comunque questa musica bellissima di forza è la mia preferita quella del cowboy quella del cowboy e ma che cosa c'è questa musica è troppo bella un attimo ti faccio sentire questa acqua è troppo bello io io maio io non posso neanche minacciarti perchè sei più forte di me fu in me 10 finalmente c'è più sei il nutella ma chillato quanta mi sapevi quanta mi sapevi quanta mi sapevi sono incredibile ti mangio che mignogno allora che mignogno gabrie ma quando hai scarti la live già è startata ma come ma chi è che mi stavo continuando ad uccidere no ragazzi devo la finisco ho chiuso una con una skinnera di e come la chiamerai la live è la live del caos ma io quando la quando si comincia già è scritto la scritta della live cioè non è che sono io è che sono io ma chi è sto qui senta adesso adesso io ce l'ho già lav 76 ma chi è la statua che mi ha fatto una libertà ma Kath use non voglio ma chi è aspetta vi scegliamo tutto dato fatta tutta l tetto è troppo confusionale non si trova fatto in emozione tonia la tua aspetta dell'amicizia finalmente stanno bene ha finalmente ho ucciso uno maia maia smesso maia che pizzerà non è troppo lento partire vado con la mia vasta io canto sono erico passuale pratico abito molto santo vanni passato stai cantando non c'è col ballo che cosa Oggi mio fratello, oggi mio fratello sai cosa ha detto? Io praticamente, mi ha detto, stavamo giocando, ha detto a posto di dire devo andare al bagno, a posto di dire devo andare al bagno, devo andare al bagno, devo andare al bagno, devo andare al bagnino, tipo così. Non puoi capirlo, aspetta lo devo cambiare, devo andare a cambiare la skin, ma io non ho capito chi è il maschio e chi è la femmina delle statue, perché uno è una. E vabbè vabbè vabbè. Guardi Andrea, quanti anni hai, non posso capire se evito di insultarci o no. Che ha detto? Quanti anni hai? Muori ninja. Muori ninja. Madò, madò, che fa schifo, io odio le fa schifo, sono brutte. Tiene, mannaggia, miseria, tocca, non più. Le skin incone sono le più belle del mondo. Non è vero. Così sono veramente. Vola, vola, vola. Che cosa c'è? Sono dedicata a persone. E i Nutella finati! Non posso capire! Non posso capire! E i Nutella parliamo! Qua cosa è scarsa Fortnite comunque? Buonasera! Buonasera! Come va? Tutto bene? Buonasera! 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 credo sogna loro mi stai dando fastidio sicuro io ma sono bloccati così noi facciamo sono libero ragazzi piacciono gli animi sono morto anche a me non ha visto nemmeno non ha visto ma fanno cagare chi sta a cagare la tua vita eh? sparo ai pavimenti! che mi hai fan sifo? tu! che giotto? che sto muoio? ma che è? mi sembrava che stavo tornando, a tolta stavo sentendo tu lo sei? no no sono io che ho tirato l'acqua ma come stai? ma c'è in bagno? si era in bagno ma come fai giocare nella doccia? non si spaccia tutta la play ma non voglio fare niente regalo non voglio fare niente ah ho capito ti volevi libera del controller mossa astuta non vuoi uccidere il ninja devo fare una figata che cos'è la scoteca questa piccata? cos'è la scoteca? non dico cos'è raga ma io e mia sorella siamo le uniche femmine qua ho ucciso ninja no 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 attenzione stiamo matando frutti con il succo di frutta raga ma dove è l'userfrutta? vai guardi gira di ma raga dove è l'uscrutta? ah scusami scusami quando ora faccio bene e come due gasserello cosa hai detto? ho detto che sono una salina eeeh quella là va bene ho visto che non ti piace il loser ma tu ti va di avanti io che bello loser però l'ho vista adesso 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 forse vieni a fastidio a nessuno fa schifo sono io sono io sono Gianni è brutta l'importante che piaccia a me non che piaccia a voi io sono bello è stato bello come me ma c'è no mi hai rotto il controller non diciamo così ah bene che io vado a busciare vengono comunque no mi sto cambiando spin sto mettendo anche io io voglio cambiare ma perché non posso cambiare il spin sto qui dentro ecco mi mi ha aspettato io ho detto io ho letto ci aspetto io ho fatto scegli ma e campus scegli e campus dove ci sono i migliori tapiru run e le giostre si dice che ci fanno veloce tapiru run vabbè ognuno viene la sua propria parola oggi studiamo la grammatica ecco infatti la persona triste che è caduta io io che il gratino che mi ha spaccato dietro io no io ma muore adesso cambia di chi è cambia skin e da trovare che lo dice non si può cambiare perché 200 mitriagliatrici a seconda che vedo la scuola non c'è che vedo quale schiena è caduta non uccidere per favore sonia sono spazio e guardate io sono un uomo ragno c'è il gladiatore vince mille euro non è un po' la solito ma non è una cosa ma non so se questa roba ecco se la scuola c'è il gladiatore vince un euro che vuole una scuola una volta raga posso giocare? no ti puoi giocare per poi da zutto o te l'ascoteca no non mi prenderete mai mi ce la vississima degli anelli mi ce la vississima degli anelli io che ce la vississima degli anelli e si fa a pulire i giochi e i nutella che finisce la mia prima kill e i nutella che skin vuoi? voglio ninja io voglio la skin di nutella di una nutella proprio ok un barattolo così stavo accendo una cosa e smettila ma ma raga non ho sparato non ho sparato non ho sparato e non ho costruito raga non ho sparato e non ho costruito guarda costruisco e poi sparo guarda 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 costruisco e poi sparo guarda 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 posso verificare subito basta che vado a cambiare meschine e vado a scena voglio fare costruisco e poi sparare questo nuovo tutorial bambino cattivo questo guarda guarda è nutella nutella è un nuovo tutorial guarda costruire e sparare ho capito non urlare ma io ma io ti da fare così fastidio essere me si compra nel negozio mi ha detto oppure io ho passato io l'ho avuto non ti preoccupare non ti uccido non fai un esperimento chi vuole duemila vbac ma ma ste robe oh devi rivelare sta skin bambina chi vuole duemila vbac allora regalami sta skin ok si però dopo perchè io che mi faccio sento film come chiami io mi chiamo gabriele sonio io mi chiamare in utile ma basta allora 101 kill ma qualcosa 102 kill ma io sono 68 signore che nuova e tu la skin ninja e tu la skin ninja e tu la skin ninja sonia ma non solo sei sì ma io sono entrata dopo di voi io ho 29 ricordo ciao sonia ciao ciao bene ora se non venite lasciatemi fare la cosa che devo fare ok no dai rega non mi chiedete devo fare una figa ninja please ninja grazie ninja grazie ninja grazie ninja chi è che conosce nix patata no bravissimi chi è che conosce nick patata nick patata nick patata sembra ho capito che conosce la radice quadrata no nick patata un po' che è stop io conosco comunque la radice pallata io ho il suo numero lo posso chiamare grazie a un manico che problemi sia per essere così le persone aiuto ninja mi insegue un altro mico ninja ok gioco ti regalo una figlia grazie però ma vai la te regalammela adesso voglio vedere voglio vedere sì ma però allora come ti chiami? come ti chiami? come ti chiami? no basta ma anche io voglio una skin no tu hai già una skin se vuoi scoppa magari te la regalo come ti chiami? guerriero andrea regalala regalala io mi chiamo mi chiamo no tu hai rego potete star ziti allora chi è che ha detto per guerriero andrea io ti ho ucciso come la schifo a me come ti chiami su fornite e l'inutella io mi chiamo e mi chiamo e poi posso regalare ancora una figlia un altro a me 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 io io sono davvero faccio faccio a me 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 che confusione sarà perché tia la che è una robuzione amici amici 4 1 8 a me a me meno a me a me a me domani ti do anche andrea andrea mi mandi la skin e però devo stare in dopo ma quindi non ho capito poi io ti ho ucciso quando tu hai detto io regalerò una schiena al primo che mi ucciderà io ti ho ucciso fatti tutti la bra la schiena ma me la dai grazie poi ho fatto amore abattiti tra i nomi che vedo e ha vinto messe 4 1 nato me la mese guardate cosa c'è una palla possiamo giocare tutti però dobbiamo togliere tutta questa graffazione qua la coppa lanciare 12 se le vogliono macchina perché giochiamo a calcio perché della scoppio noi no è caduta guarda la vita ancora rimbalzano sotto davvero dove no che peccato ma come dipoteva no potete stare un attimo zitti Allora Ma perché mi sparate? Una skin la vincerà Ninja Una è in Nutella E una sogna il suo progetto E io? Sì, che bello Ma è qui E raga ma questo bambino cocitrono è inerratto Anch'io Che bello Io sono una che ti arrabbi Ma Mario ci crede Non lo fate prima che poi riprende la posta e vedi qualcuno Ci crede Come si chiama quello che regala le skin? Che io non ho ancora capito Guardiero Andre Guardiero Andre ci regali veramente la skill? E il guerriero dragone Non io ve la regalo Un mio amico li chiedo Perché lui regala tutte le skin ai miei amici Quindi è il primo che capita Gli regali No a quelli che ho detto Che non ho dato la richiesta di amicizia Allora Guardi Andre ma io adesso non vi regalargliela Perché? No te l'hai Allora non la regalo Ascolta me Lei 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 Spariamo in aria Sì ma scegliete Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace E la scodega Che skin vuoi? Che skin vuoi? Edo Aspettate che non ci si contiene Io voglio la skin che si chiama skin Mario ma ci stai credendo? Io ci credo No io Io Oh ragazzi Io voglio la skin che si chiama skin Cioè Ci capiamo Sappiamo quello che sta per succedere Maia però non piangere dopo Mario io esco No ma Maia non hai detto niente Non ve la risuardo io ma un mio amico Avete capito? Invita questo tuo amico Ok lo invito Solani Vado nei negozi oggetti Madonna maia Abbandonate la modalità creativa Perché è arrivato Sono molto creativo quindi sto disegnando Che se sono creativo Se si unisce il mio amico Cioè il tuo skin bello Io voglio ninja bambino Ok Però Ninja bambino Non esiste Sofì io Ninja bambino Adesso io non ti regalo la skin Io ti regalo Cioè Io vorrei ninja Signor menace O meglio Signor Gabriele No io mi chiamo guerrierone Io voglio rivolgere Se no Accorre l'ascoteca